Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura la cronaca è un altro gravissimo fatto di sangue che si è concretizzato nel corso dell'ultima notte. Un agguato stile il padrino al pub Birramì di Montesilvano. Questa notte un uomo incappucciato e armato di fucile è entrato nel locale ed ha ucciso con un colpo al volto. Antonio bevi l'acqua. Indagano i carabinieri che stanno passando al setaccio. Le testimonianze e soprattutto le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza nella zona. Il servizio è di Alfredo Primante. Sono le 2.50 della scorsa notte quando un uomo travisato da passamontagna fucile alla mano entra nel pub Braceria Birramì in via Verrotti a Montesilvano, si avvicina al bancone, chiama Antonio bevi l'acqua e poi non appena lui si gira gli esplode un colpo in pieno viso uccidendolo. Successivamente con estrema calma esce dal locale e si dilegua a piedi tra l'incredulità e la paura della dozzina di persone che in quel momento era all'interno del bar. Un agguato in piena regola che ha decretato la morte del 21enne di etnia Rom sposato e padre di una bimba di sei mesi. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti, secondo il racconto reso ai giornalisti, a microfoni spenti da Tarquinio Croce, proprietario del locale, era andato a comprare le sigarette nella vicina tabbaccheria e poi successivamente era entrato nel birramì. Al momento dell'agguato bevi l'acqua e era solo, ha detto sempre Croce, e stava conversando con lui mentre era intento a spillare un bicchiere di birra. L'esercente ha detto di essersi accorto dell'omicidio solo dopo aver sentito un botto e alzando lo sguardo aver visto la canna del fucile prima di abbassarsi dietro il bancone per paura. Accanto alla vittima c'era anche un altro avventore che con le scarpe ancora sporche di sangue ed in evidente stato di shock ha raccontato di aver realizzato quanto era accaduto solo dopo aver visto Antonio bevi l'acqua stramazzare al suolo in una pozza di sangue. Questa mattina davanti al locale si sono radunati i parenti della vittima e sono arrivati anche la mamma in lacrime e il fratello che ha conversato con i carabinieri. Le indagini condotte dai militari della compagnia di Montesilvano e dal nucleo investigativo di Pescara stanno passando al setaccio le testimonianze oculari e soprattutto le immagini delle telecamere di videosorveglianza sia del pub che della tabbaccheria. Al vaglio anche le frequentazioni e la vita della vittima descritta dal proprietario del locale come un bravo ragazzo. I carabinieri coordinati dal PM del Tribunale di Pescara Paolo Pompa non escludono alcuna ipotesi. La pista più accreditata al momento è che l'omicidio a prima vista con i connotati di un agguato legato alla criminalità organizzata sia invece derivato da un diverbio tra la vittima e il suo carnefice. Un omicidio distinto come lo ha definito il colonnello Marco Riscaldati, comandante provinciale dei carabinieri di Pescara. Dai primi accertamenti ai primi elementi che sono stati raccolti non si tratta comunque di un fatto organizzato. Stiamo analizzando non solo le telecamere del piazzale e comunque di quelle di intorno anche al luogo dove è avvenuto il delitto ma anche tutte quelle che possono essere le vie, le strade che ipotizziamo possa l'assassino avere percorso nel suo itinerario di fuga. Sull'arma del delitto potete dare qualche dettaglio in più? Sembra un'arma lunga? Sì, è un'arma lunga, è un fucile per cui non siamo ancora in grado di dire il calibro perché essendo un fucile non ha rilasciato il bossolo per cui eventualmente sarà dopo l'esame autoptico possibile fare delle ipotesi anche in questo senso. E all'Aquila la squadra mobile sezione antidroga ha arrestato d'intesa con il sostituto procuratore Roberto Davoglio un 41enne residente all'Aquila perché aveva impiantato una coltivazione di marijuana in un terreno situato nelle vicinanze del quartiere di Borgo Rivera. Nel corso della perquisizione in un casale situato in via degli Ortolani gli investigatori hanno rinvenuto 12 piante di marijuana di cui 4 piante dell'altezza di 3 metri 2 dell'altezza di 2 metri e mezzo, 5 dell'altezza di 2 metri e 20 ed una pianta dell'altezza di 1 metro e 80 per un peso complessivo di 16 chilogrammi. Restiamo all'Aquila ma cambiamo pagina. L'ex sindaco Massimo Cialente rompe gli indugi a sorpresa e si candida a segretario comunale aquilano del Partito Democratico. Sfiderà il suo ex assessore Maurizio Capri e con molta probabilità l'attuale segretario comunale del PD Stefano Albano. Vediamo. Massimo Cialente si candida a segretario comunale del Partito Democratico. Questo è ciò che è stato annunciato dall'ex sindaco del Comune dell'Aquila con un post su Facebook. Molte le reazioni che ha scatenato il post tra idem e ignari della scelta di Cialente. Oltre all'ex sindaco sembrerebbe in corsa anche Maurizio Capri che non ha paura di sfidare la forza di Massimo Cialente. L'attuale segretario del Partito Democratico Stefano Albano avrebbe accolto positivamente la notizia delle due candidature perché sarebbe sintomo di una vitalità che dimostra il partito. Si tratta di due autocandidature, quella di Massimo Cialente e di Maurizio Capri candidature infatti che non sono ancora state discusse nei tavoli di partito. Albano, da segretario uscente, dovrebbe comunque ricandidarsi. Dato l'alto numero di partecipanti al confronto ci sarebbe bisogno di un gran dibattito interno. In tutto questo rimane però in silenzio la senatrice Stefania Pezzopane. Si vociferava infatti anche della candidatura di Fabrizio D'Alessandro molto vicino alla senatrice che però dopo aver preso della candidatura dell'ex sindaco Cialente avrebbe fatto un passo indietro. Dunque sono giorni molto movimentati in casa Partito Democratico. Slitta al 20 settembre, se non ci saranno ulteriori complicazioni la riapertura della scuola elementare De Amicis di Giulianova. Il provvedimento è stato preso dal sindaco Francesco Mastro Mauro dopo che la procura di Teramo ha seguito degli sviluppi dell'inchiesta a Castrum ha chiesto al comune di verificare con urgenza le condizioni di stabilità del plesso. Già nel 2013 quella scuola era stata oggetto di una verifica di vulnerabilità sismica che ne aveva certificato un coefficiente di 0,60 e che quindi confermato peraltro da un'altra verifica di vulnerabilità sismica che la prima era stata fatta dall'ingegner Marco Trifoni e quella successiva prima dei lavori a cui abbiamo sottoposto l'edificio per migliorarne il coefficiente fatta dall'ingegner Ernesto Martegiani che confermavano come questa scuola fosse a posto anzi non abbisognava neppure del miglioramento sismico che invece noi abbiamo voluto fare lavori che sono stati portati avanti il primo stralcio l'anno scorso il secondo quest'anno e proprio stamane erano stati riconsegnati questi lavori il direttore dei lavori e progettista l'ingegner Ernesto Martegiani si è impegnato nel giro di poco tempo a rimettere un'ulteriore relazione facendo quello che noi gli abbiamo chiesto in maniera scrupolosa un ulteriore ricalcolo della relazione che aveva fatto che porta con questi lavori quella scuola ad avere lo 0,84 di coefficiente di antisismicità abbiamo già chiesto un contraddittorio anche con la procura che spero si svolga a stretto giro appunto per sincerarci ulteriormente che tutto sia a posto nel frattempo in attesa di fare questo confronto che spero si faccia già nella giornata di lunedì domani fermerò un'ordinanza con la quale prorogherò l'inizio il rinizio delle lezioni per l'anno scolastico 2017-2018 dal lunedì 18 a mercoledì 20 Loreto Aprutino entra a far parte dei 500 comuni d'Italia più virtuosi secondo la graduatoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze la soddisfazione del Sindaco Starinieri nell'intervista rilasciata alla redazione di Vestina News Sindaco Starinieri di questi giorni la notizia da parte del MEF il Ministro dell'Economia e delle Finanze che premia il paese di Loreto come uno tra i 500 paesi più virtuosi dell'Italia un riconoscimento ma soprattutto ecco perché amministra per un sindaco la graduatoria del MEF è una certificazione che i conti economici nel nostro comune sono a posto almeno per il momento ciò testimonia che con la mia amministrazione come avevo premesso si è iniziata a fare la programmazione economica ciò permette di avere tutto in chiaro e quindi di programmare e di sapere poi quali soldi sono in cassa e quale attività si possono fare giustamente un riconoscimento da tutti i cittadini i cittadini di Loreto sono buoni contribuenti però ecco tutto è stato raggiunto anche grazie alla riorganizzazione degli uffici soprattutto quelli finanziari e tributari ma dico che comunque tutti gli uffici sono a catena quindi con la riorganizzazione degli uffici addirittura abbiamo aumentato gli uffici i risultati si sono visti quindi a chi ha criticato inizialmente purtroppo non ha creduto nella bontà i risultati sono questi che adesso sono evidenti io credo che siccome la classifica viene fatto anche in base ai dati che vengono trasmessi è mio orgoglio che i nostri uffici possono in ogni momento fornire i dati richiesti dal Ministero e questo indice di un'amministrazione trasparente fondi da 1,4 milioni di euro per mettere in sicurezza il Tribunale di Vasto vediamo il provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ha comunicato al Sindaco di Vasto che sono a disposizione 1 milione e 400 mila euro per i lavori di ristrutturazione messa in sicurezza del Palazzo di Giustizia una buona notizia ha commentato Francesco Menna l'edificio che ospita il Tribunale di Vasto va manutenuto per garantire la sicurezza agli utenti e alle persone che vi lavorano benvengano quindi i fondi assegnati al Palazzo di Giustizia ha dichiarato il Sindaco replicando a quanti hanno criticato lo stanziamento dei fondi l'importante finanziamento è stato ottenuto grazie alla conferenza permanente e alla Commissione Sicurezza sui luoghi di lavoro oltre ai verbali di cui si sono fatti i patrocinatori il Presidente del Tribunale Bruno Gian Giacomo e il Procuratore della Repubblica Giampiero Di Florio componenti della stessa conferenza permanente assieme all'Ordine degli Avvocati e al Comune il Presidente del Tribunale che coordina entrambe le commissioni e il Procuratore avevano evidenziato le criticità dal punto di vista della sicurezza riscontrata nell'edificio la parte interna del cortile è transennata ricorda il Sindaco così come altre tre zone esterne della struttura i fondi che arriveranno saranno utilizzati per garantire la corretta fruizione dello stabile Inaugurazione questo pomeriggio a Silvi Marina del nuovo centro sportivo con piscine centro fitness al centro universo della famiglia De Eugenio una struttura ad avanguardia inserita in un complesso che nei prossimi mesi vedrà completarsi un processo di restyling di vastissima portata Una struttura moderna inserita in un complesso che diventerà praticamente un unicum in Italia è il giorno dell'open day per la piscina del centro universo di Silvi Marina l'evento è stato preceduto da una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il campione del mondo degli 800 metri stile libero Gabriele Detti e il palanotista pescarese e nazionale azzurro Francesco Di Fulvio nonché tutti gli attori protagonisti della genesi di una struttura all'avanguardia che presenta nello stabile ex fiera adriatica due vasche una 25 metri per 16 l'altra per i più piccoli al piano di sopra spa e centro fitness il tutto da domani sarà pienamente operativo con i mille iscritti in poco tempo già accreditati dopo tanto impegno profuso dalla famiglia d'Eugenio che in modo particolare Renato Alessandro e Luca che hanno deciso di fare questo grande investimento sul territorio di Silvi perché hanno voluto dare una risposta come attività a livello regionale perché è un centro credo unico in Italia di terza generazione dove il 60% sono servizi e il 40% è commerciale noi questo è il primo tassello come centro sportivo poi seguirà approssimamente con un multiplex che sarebbe otto sale cinematografiche di cui uno è Atmos poi ci saranno centri medici una clinica dentale diagnostica di immagine e poi ci sarà anche un centro fisioterapico e un asilo e poi c'è oltre questo una gara dedicata alla food court e anche bowling sale giochi quindi è un complesso enorme 50.000 metri quadrati con 2.000 posti auto e noi siamo pronti per iniziare prossimamente prima di Natale anche con l'apertura di tutto il resto del centro commerciale La gestione della struttura è stata affidata alla Universo Sport Club di Silvi il cui azionista di riferimento è Luigi Barelli presidente del centro sportivo Villa Flaminia Sport di Roma è una cosa completamente innovativa molto completa mirata al benessere della persona a 360 gradi la vasca chiaramente è un punto molto importante c'è una vasca 25x16 una più piccola quindi per tutte le attività natatorie di sincro scuola agonistiche anche abbiamo da poco anche il Pescara Pallannuoto che sta già venendo ad allenarsi qui questa è una vasca più piccola e sarà adatta alla didattica dei bambini più piccoli ma anche alla riabilitazione alle attività per chi sta in gravidanza una progettualità complessa ed avanguardia quella del centro Universo di Silvi che ha fatto riferimento per lo studio e la direzione dei lavori alla Merlino Progetti di Chieti in collaborazione con la Mario Sablone SRL questo è un centro commerciale innovativo dove abbiamo voluto avere la presenza di qualche cosa che in altri centri non esiste io ho fatto anche altri centri a livello nazionale e internazionale diciamo che stiamo in evoluzione rispetto a quello che tradizionalmente si fa dove c'è l'ancora alimentare e ci sono i negozi qui abbiamo voluto mettere la parte sportiva la parte ricreativa con la multisala e anche la parte ristorativa di un certo prestigio ricapitolando una piscina 25x16 una piscina per i più piccoli e poi una spa e un centro fitness una spa e un centro fitness un centro fitness che in realtà non è solo un mero centro fitness con attività di palestra ma abbiamo creato appunto delle stanze che sono polivalenti che comunque si possono adattare ai desiderata della della gestione e quindi creare anche altri corsi paralleli a quello del puro fitness come per esempio la danza e altre discipline che comunque faranno all'interno di questo centro sportivo la mostra di Michael Kenna a Loreto Aprutino è stata prorogata fino al prossimo 31 ottobre sono stati 2700 i visitatori Vincenzo De Pompeisi ci eravamo lasciati con l'inaugurazione di questa mostra qui a Loreto Aprutino del fotografo Michael Kenna successo di pubblico incredibile tant'è che la mostra sarà prolungata fino al mese di ottobre effettivamente c'è stata un'ottima rispondenza di pubblico sia dal giorno dell'inaugurazione fino ad oggi abbiamo avuto 2700 visitatori circa quindi già dopo i primi due mesi abbiamo deciso di prolungare fino al 31 ottobre l'apertura della mostra gli orari saranno fino al 30 settembre l'apertura è ogni giorno tranne il lunedì dalle 10 alle 13 e dalle 17 e 30 alle 20 nel mese di ottobre ci sarà l'apertura solo nel weekend quindi sabato e domenica con gli stessi orari e su richiesta per gruppi da 5 persone in su l'apertura può avvenire negli altri giorni della settimana ad eccezione del lunedì è un'opportunità di stimolo e di riflessione anche per le scuole per cui abbiamo deciso di offrire loro un trattamento particolare invito appunto i docenti i professori gli insegnanti a portare eventualmente le scolaresche ed ora apriamo la pagina dello sport lo facciamo con la serie B possiamo vedere la schermata di un turno che si è aperto ieri con due anticipi anche perché ci sarà il turno infrasettimanale tra lunedì e martedì quindi non sono previsti posticipi di domenica o di lunedì ieri Cesena Avellino 3 a 1 Venezia Spezia è finita 0 a 0 tra poco Pescara in campo alle ore 15 a Salerno contro la Salernitana vado a leggere le formazioni ufficiali di Ramate davvero pochi minuti fa nel Pescara non sarà rivoluzione come ci si aspettava e dunque Pigliacelli in porta difesa con Zampano Perrotta Coda e Mazzotta dunque non saranno in campo Bovo e Balzano confermato il centrocampo ecco qui vediamo anche nella nostra grafica Proietti Brugman e Coulibaly grafica che prendiamo dal sito della Pescara Calcio con le formazioni ufficiali in attacco Pettinari Del Sole e Capone che prende il posto di Benali e questa è l'unica vera novità nel Pescara oltre al rientro tra i titolari di Zampano al posto di Crescenzi vediamo il 4-3-3 della Serenitana di Bollini con Radunovic in porta in difesa da destra a sinistra Perico Bernardini Tuia e Vitale centrocampo a tre con Minala della Rocca e Ricci poi nel tridente d'attacco a sorpresa un difensore di ruolo come l'ex Raffaele Pucino con lui sprocati la prima punta Riccardo Bocalon queste le decisioni dunque di Bollini per tutti gli altri dettagli vi rimando poco dopo il TG6 con la nostra diretta stadio indicativamente intorno alle 14.30 con collegamenti in diretta dallo stadio Arecchi con il nostro inviato Paolo Renzetti e ora la serie C diramata poco fa la lista dei convocati anche in casa Teramo non ci sono grosse novità manca Amadio per infortunio manca lo squalificato Graziano gli altri tutti convocati compreso l'attaccante Barbuti la formazione dovrebbe essere quella che ha perso ma giocando bene a Vicenza Teramo che domani alle 18.30 giocherà la prima gara casalinga al Bonolis contro il Ravenna e di questo ha parlato il tecnico Asta dopo la seduta di rifinitura di questa mattina sono curioso sono curioso come i miei ragazzi possano un po' un attimino così cercare di di giocare in casa con la stessa libertà mentale che hanno avuto queste due trasferte ecco su questo ho lavorato molto anche su di loro nel capire che piacerebbe vedere una squadra così frizzante libera mentalmente di offendere attaccare anche anche in casa perché poi soprattutto in casa dovrai spesso fare la partita e agganciandomi al tuo discorso quello anche a livello tattico sapendo che devi fare la partita dobbiamo capire fin dove riusciamo ad essere appunto bravi in quello perché abbiamo fatto due trasferte magari la prima abbiamo fatto meno il primo tempo la seconda invece col Vicenza il secondo tempo attendendo un po' ma in casa questo non sarà possibile vediamo quello che capiterà però sono curioso anch'io mi aspetto una brutta partita purtroppo nel senso mi spiego meglio affrontiamo una squadra che arriva dal 5-1 in casa una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato facendo molto bene una squadra che fa un calcio offensivo col 4-3-1-2 o col 4-3-3 arriva molto arrabbiata una partita non vera non vera perché il 5-1 non è mai vero sono andati in svantaggio subito espulsione quindi non è neanche decifrabile però ho visto la partita fatta a Bassano l'ha fatta molto bene meritavano sicuramente di pareggiare avevano vinto in casa con la fermana quindi queste partite sono partite a sé e mi aspetto una partita difficilissima contro un avversario che gioca a calcio ecco gioca a calcio noi dobbiamo essere bravi nel sapere che loro giocano a calcio e noi quando affrontiamo delle squadre che ci danno un po' di libertà pur rischiando qualcosa allora anche noi diventiamo pericolosi Amadio ancora out Amadio non sarà neanche della panchina e spero Barbuti sì almeno portarlo in panchina anche se oggi insomma ha avuto un piccolo ancora problemino a questa gavia che se lo sta portando avanti da un po' di tempo però purtroppo quando sono questioni fisiche non puoi accelerare perché non è questione di stringere i denti o meno sono questioni proprio di tempo e io spero che domani possa magari venire in panchina se ce ne fosse di bisogno un quarto d'ora dieci minuti se così non fosse ci saranno altri che sono entrati domenica i giovani e vedremo quello che capiterà Finisce qui la prima edizione del TG6 le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23 tra poco invece diretta a stadio per seguire Saernitana Pescara grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi Grazie a tutti